bentornato gutier bentornata iniziamo una nuova decade andando a vedere cosa è accaduto subito dopo gli aggiornamenti importanti di windows 10 infatti penso avrai notato che la sezione delle impostazioni ha aumentato il numero di pulsanti questo avrà man mano che la microsoft implementerà le funzionalità alcune non trovano un riscontro in questa guida come il caso ad esempio del pulsante telefono che ti consente di dare continuità all'uso del telefono dello smartphone una volta che accedi al tuo pc quindi dovrai aggiungere il tuo smartphone alla lista dei dispositivi per continuare l'esperienza d'uso e mi fermo qui senza aggiungere altro in quanto questa guida è particolarmente indicata per i pc o notebook uno dei pulsanti invece utili è proprio quello delle app applicazioni cosa è questo pulsante ti permette di gestire le applicazioni installate oppure da installare nel sistema operativo l'accesso avviene sempre nella sezione impostazioni cliccando sul pulsante app otterrai la lista delle sottosezioni app e funzionalità app predefinite mappe offline app per siti web e riproduzione video andiamo con la prima che ti permetterà di scegliere dove scaricare o installare le applicazioni o da qualsiasi origine avvisandoti magari se scarichi applicazioni fuori dallo store della microsoft oppure scegliendo solo applicazioni e quindi per dare maggior sicurezza potrai e dovrai installare applicazioni soltanto dallo store della microsoft subito sotto infatti avrai anche la lista delle applicazioni che sono installate all'interno di windows 10 e potrai gestirle cliccandoci sopra qui potrai scegliere da dove poter scaricare le applicazioni ognuno avrà opzioni proprie ma sostanzialmente potrai o spostarle in altre partizioni ma di norma non è applicabile per pc e notebook oppure modificarne le funzionalità aggiungendone oppure rimuovendone o infine disinstallare le applicazioni stesse il pulsante gestisci funzionalità facoltative ti rimanda da un'altra sezione in cui puoi gestire oppure aggiungere funzionalità facoltative ma proprie del sistema operativo con la sotto sezione app predefinite avrai in visione la lista delle applicazioni installate che sono predefinite per l'apertura di determinati file oppure protocolli in pratica per ogni tipo di file o di protocollo potrai scegliere un programma che più ti piace per l'uso quindi per la sua apertura esempio per vari file multimediali potrai usare vlc cosa dovrai fare lo scarichi lo installi e lo imposti come predefinito in questa sezione per tutti i file multimediali il pulsante rimposta se dovesse essere utile porta a ripristinare i parametri alla situazione subito dopo l'installazione di windows 10 i pulsanti scelta che trovi ti permetteranno di impostare in maniera granulare la scelta dell'estensione dei protocolli per ogni programma o applicazioni cliccando sulla singola estensione infatti oppure protocollo potrai scegliere l'applicazione che ti permetterà di aprire quelle estensioni o quel protocollo in base alle applicazioni programmi che avrai installato in seguito nel tuo sistema operativo la sottosezione invece map offline ti permette di utilizzare l'applicazione delle mappe senza impiegare traffico dati potrai scaricare le mappe prima ed utilizzarle per i tuoi viaggi o visualizzazione dei percorsi qui altri pulsanti per la gestione di queste mappe puoi impostare dove scaricare le mappe e se utilizzare o meno la connessione all'internet quando questa fosse a consumo l'aggiornamento delle stesse potrà avvenire o in maniera automatica attivando o meno il cursore relativo oppure manuare a te la scelta in base alla tipologia di traffico dati che avrai la sottosezione successiva permette di impostare le applicazioni che potranno essere utilizzate per aprire alcuni siti web qui una rappresentazione ad esempio di Groove Musica per questo specifico sito web della Microsoft se il cursore dell'applicazione nella lista che sarà evidenziata è attiva in questo caso come puoi vedere è disattivato il relativo sito web non si aprirà tramite il browser ma si avvierà l'applicazione e tu fruirai di questo sito web tramite l'applicazione dedicata l'ultima sottosezione ti permette di modificare le impostazioni video per le applicazioni che utilizzano il programma di riproduzione che ha integrato in Windows 10 e quindi potrai gestire le impostazioni per questo specifico programma per questo specifico piattaforma alternativa al programma multimediale che potrai installare in seguito io personalmente curo queste impostazioni nel programma multimediale che di norma utilizzo che nel mio caso è VLC bene guter eccoci in zona pratica andiamo a vedere i nuovi pulsanti presenti dopo l'aggiornamento come puoi vedere ce ne sono alcuni il telefono ti permetterà di aggiungere un telefono per poter fruire e continuare le funzionalità che hai già avviato dal tuo telefono proseguendo l'esperienza sul pc ma dovrai eccedere con un account Microsoft andiamo a vedere quello che invece ci interessa di più per cui riguarda il pc cliccando sul pulsante applicazione avrai la possibilità di selezionare innanzitutto dove scaricare le applicazioni o da qualsiasi origine oppure dallo store della Microsoft o in alternativa scegliere sempre qualsiasi origine ma se fossero esterne di avvisarti quindi a te la scelta di dove scaricare questa applicazione sappi che se vorrai scaricare le applicazioni fuori dell'account Microsoft e quindi dallo store Microsoft dovrai tutelarti maggiormente per le applicazioni che andrai a installare in quanto non sono garantite in basso trovi la lista delle applicazioni attualmente installate sul tuo pc e su ognuna potrai cliccandoci sopra interagire o spostandolo se fosse attivo questo pulsante ma ripeto questa è una norma che si applica normalmente per gli smartphone che ti permette di spostare in alcuni casi l'applicazione dalla partizione presente nell'interno del sistema operativo oppure potrai disinstallare l'applicazione stessa oppure se hai l'opportunità entrare nell'opzione avanzate per o reimpostarle o andare a aggiungere o a togliere alcune funzionalità proprie dell'applicazione il pulsante gestisci funzionalità facoltative entra nella sezione dedicata del sistema operativo anche qui potrai o aggiungere funzionalità sempre facoltative al sistema operativo ma di norma non interagirai con questa sezione oppure dalla lista anche in questo caso potrai scegliere di gestire o disinstallare le funzionalità facoltative del sistema operativo torniamo alla sezione di nostro interesse andiamo a vedere la seconda sotto sezione app predefinite qui tu hai già una lista presente di programmi predefiniti per aprire determinati protocolli o funzionalità in questo caso le mail tramite l'applicazione posta e potrai anche scegliere una tra quelle installate oppure ricercarle all'interno dello store ad esempio il lettore multimediale è il mio predefinito per l'apertura di tutti i file multimediali ma potrai anche scegliere dalla lista come ho appena detto il pulsante reimposta ti permetterà di ripristinare tutte le impostazioni come se avessi appena installato windows 10 altri pulsanti in fondo ti permetteranno di scegliere l'applicazione predefinita per determinati tipi di file intesi come estensioni o protocollo quindi dalla lista che si presenta sulla sinistra tu potrai decidere di scegliere un determinato programma o applicazione per l'apertura dello stesso per capirci andiamo ad esempio a prendere l'estensione jpeg eccolo qua come puoi vedere attualmente sto utilizzando questo programma per l'apertura cliccandoci sopra se avessi installato un altro programma potrai cambiarlo oppure andare a cercare un nuovo programma all'interno dello store stesso discorso per i file mp3 attualmente come puoi vedere il programma predefinito è vlc ma cliccandoci sopra potrai alternativamente scegliere uno da questa lista laddove non avessi alcun programma per un determinato file di estensione cliccando sul pulsante più dovrai andare a installarlo oppure sceglierlo dallo store torniamo indietro stesso discorso lo potrai eseguire anziché per l'estensione ma per il protocollo come puoi vedere qui hai la lista dei protocolli ad esempio per http tu potrai scegliere uno dei browser installati all'interno del sistema operativo e quindi cambiare di fatto il programma predefinito che ti servirà per la navigazione e così per tutti i tipi di estensione protocollo ultimo pulsante qui configura le impostazioni predefinite in base all'applicazione anche qui potrai andare a gestire le funzionalità del tipo di protocollo in relazione all'applicazione che di default è predefinita all'interno del sistema operativo vediamo ad esempio excel potrai andare a gestire i tipi di file intesi come estensione che andrà ad aprire questo programma andiamo avanti nella descrizione passiamo a mappe offline questa è la sezione dedicata al navigatore in pratica potrai decidere di scaricare le mappe per usarle quando non sei connesso ad internet quindi molto utile per non consumare traffico dati una volta che avrai scaricato le mappe potrai eliminarle se avrai troppo spazio occupato e nel caso in cui dovrai aggiungere una mappa cliccando sul pulsante potrai anche selezionare dove devono essere memorizzate le mappe offline in questo caso come vedi non sono connessa ad internet e quindi non posso aggiungere mappe e installarle dove vorrei se hai una connessione a consumo è consigliabile abilitare questo cursore per non consumare troppo traffico dati e potrai anche decidere di aggiornare automaticamente o in maniera manuale le mappe qualora tu avessi una connessione a consumo tramite questo pulsante che ti permetterà di controllare gli aggiornamenti quando vorrai tu altro sotto sezione app per siti web se questo cursore è attivo per la lista dei programmi qua evidenziata potrai far sì che un determinato sito si apra non tramite il browser quindi tramite programma predefinito ma tramite l'applicazione che potrà gestire l'apertura di quel determinato browser in questo caso disattivando io avrò aperto questo sito web tramite il browser se lo attivo invece di aprirsi il browser si avvierà l'applicazione Groove Musica e potrò fruire delle funzionalità e delle caratteristiche del programma presentato tramite il sito web grazie appunto all'applicazione Groove Musica ultima sotto sezione riproduzione video che ti permetterà di modificare le impostazioni per l'applicazione che utilizza la piattaforma integrata all'interno del sistema operativo ma come detto in precedenza io utilizzando come lettore multimediale VLC questa sezione non la prendo in considerazione in quanto vado ad impostare direttamente all'interno del programma le caratteristiche proprie in base alle mie necessità tutt'al più potrai attivando questo cursore elaborare automaticamente il video per migliorarlo oppure nel caso in cui non avessi una risoluzione molto alta potrai selezionando questo cursore consentire una riproduzione del video ad una risoluzione inferiore bene nella prossima lezione ancora nuove informazioni per Windows 10 ora come sempre un forte saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima ciao a presto ciao a presto ciao a presto ciao a presto Autore dei sorrisi